Assenza di sicurezza e dipendenti nero blizza dei carabinieri della marca, 7 attività sospese e 20 aziende sanzionate con 250.000 euro, in alcuni casi mancavano addirittura i ponteggi per evitare cadute. Attacco informatico ai siti web degli aeroporti di Treviso e Venezia inaccessibili al pubblico dalle 18 alle 18.50, save gli oscure in via precauzionale insieme a quelli di Verona e Brescia, ora tutti sono operativi. L'inviato a giudizio il 43enne che aveva in l'orba nel luglio del 2020 diede una spinta all'ottantenne Giovanni Gagno facendolo cadere a terra l'anziano morì il giorno dopo in ospedale. Chiediamo un incontro al ministro Giorgetti, il presidente di Antia, il sindaco di Treviso preoccupato per erincare tagli che i comuni saranno costretti ad attuare senza l'aiuto del governo, il PD all'attacco finito il tesoretto. La pediatria all'ospedale di Castelfranco non chiuderà le rassicurazioni sul reparto del San Giacomo dal direttore dell'Ulss2 Benazzi. Resto nella Lega ma a determinate condizioni non a tutti i costi, le parole di Roberto Marcato sul suo futuro nell'intervista esclusiva Focus dopo mesi di polemiche serve, dice, un congresso federale. Domani alle 15 a San Paolo di Piave, il funerale di Antonio Faccini è scomparso a 94 anni, uno dei volti dei vini della sinistra Piave trevigiana. Domani alle 15 il Benetton debutta in casa dopo la strepitosa vittoria e rimonta contro il Galli e Samo Nigo si attende il tutto esaurito e potrebbe esserci già il debutto dell'ex All Black Fichitoa. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri notiziari. Dunque, l'avete sentito questi titoli, ma in primo piano l'attacco informatico ai siti web degli aeroporti di Treviso. e Venezia inaccessibili al pubblico. Dalle 18 alle 18.50, Save li ha oscurati in via precauzionale insieme a quelli di Verona e Brescia. Sempre per motivi precauzionali, anche ieri erano stati oscurati alcuni siti di altri tre aeroporti italiani. Save ha fatto sapere che nessun'altra applicazione è stata coinvolta e che le operazioni aeroporturali di tutti gli scali sono procedute sempre regolarmente. E ora tutto il sistema è tornato ad operare regolarmente. Ed ora parliamo invece di sicurezza sul lavoro. Assenza di sicurezza e dipendenti neri blitz dei carabinieri. Nella marca 7 attività sospese, 20 aziende sanzionate con 250 mila euro. In alcuni casi mancavano addirittura i ponteggi per evitare cadute dall'alto. La marca rimane maglia nera nel Veneto per infortuni sul lavoro. Ma nonostante questo, nei cantieri edili, nell'agricoltura e nel commercio, regna poca sicurezza e dipendenti costretti a lavorare senza nessun regolare contratto. Uno spaccato preoccupante messo in evidenza anche dagli ultimi controlli dei carabinieri del comando provinciale e del nucleo ispettorato del lavoro. Sono attività periodiche che svolgiamo in maniera incessante. Da un lato per contrastare la piaga degli infortuni sul lavoro, dall'altra quella per garantire una sana concorrenza fra le imprese. Ben 7 le attività sospese, 9 i lavoratori nero scoperti nei vari settori e 20 aziende sanzionate per un totale di 250 mila euro. In un cantiere edile di Vedelago in particolare c'erano operai impiegati in quota senza il ponteggio per evitare le cadute nel vuoto. Similmente a Giavra del Montello, in un altro cantiere, una ditta di elettricisti stava operando senza adeguati sistemi di protezione individuale contro le cadute dall'alto e senza aver redatto il previsto piano operativo di sicurezza. Tra le carenze che riscontriamo spesso, soprattutto nel settore dell'edilizia, ci sono queste. Il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il mancato utilizzo di protezioni proprio per impedire queste cadute nel vuoto dalle impalcature. Non va meglio nel settore dell'agricoltura. Durante le ultime giornate della vendemmia sono state sospese tre aziende di Valdobiadene, due delle quali per aver impiegato complessivamente sei lavoratori italiani in nero ed una terza per non aver provveduto a redigere il documento di valutazione dei rischi. In queste circostanze le sanzioni sono pesanti perché possono portare anche alla denuncia del datore di lavoro. Ed ancora in due aziende di cappella maggiore, dove si effettua il taglio e la lavorazione del legname, sono stati trovati tre lavoratori, due dei quali extracomunitari che operavano in nero, privi di ogni tutela assicurativa e previdenziale. Peraltro anche in passato abbiamo avuto incidenti purtroppo anche fatali in questo particolare comparto. E quindi è chiaro che la nostra attenzione è proprio sui settori dove sappiamo che i rischi anche sono maggiori e possono veramente avere conseguenze tragiche. Quindi il nostro intervento è un intervento di contrasto ma anche sicuramente di prevenzione. I controlli non si fermeranno e toccheranno tutti i settori. È stato rinviato a giudizio davanti alla Corte d'Assise Marco Braido il 43enne che il 24 luglio del 2020 diede una spinta a Giovanni Gagno, 80 anni, facendolo finire violentamente a terra. L'anziano morì il giorno dopo il ricovero in ospedale per il grave trauma cranico riportato nella caduta. Una tragedia causata da un litigio per una questione di un parcheggio proprio di fronte all'abitazione dell'anziano a Villorba, respinta alla richiesta di patteggiamento presentata dal difensore. A Braido non è stato neppure concesso il rito abbreviato l'uomo è accusato di omicidio preterintenzionale. Ed ancora cronaca, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione il promotore finanziario di 51 anni di Carpesica, processo per la morte nel novembre del 2018 a Vittorio Veneto della 69enne bellunese Letizia Sperti, titolare di una gelateria in Germania investita e uccisa dall'auto dell'uomo. In quel drammatico incidente era rimasta coinvolta anche un'amica a 63enne di Tambre. L'automobilista guidava a velocità moderata ma nei suoi confronti è stata applicata l'aggravante della guida in stato di ebbrezza 1,6 grammi per litro, livello di alcol nel sangue, e di contro che le due donne avrebbero attraversato la strada lontano dalle strisce pedonali. Il difensore del 59enne ha annunciato ricorso in appello. 200 milioni in meno per i comuni dal governo è quanto sarebbe previsto nella finanziaria 2024, un taglio che preoccupa i comuni alle prese con spese sempre più elevate. Il presidente Anci Veneto chiederemo un incontro al ministro Giorgetti. Sulla base delle valutazioni e l'impatto che questa manovra avrà sui comuni veneti chiederemo un appuntamento a ogni ministro di riferimento, compreso ovviamente il ministro Giorgetti. Anci pronto a chiedere un incontro al governo per discutere, dice Mario Conti, in modo costruttivo e propositivo della manovra finanziaria. Lo annuncia proprio il presidente dell'Associazione Veneta dei Comuni di rientro dall'Assemblea Genova che è stata l'occasione per confrontarsi con i colleghi sindaci sulla situazione dei bilanci comunali. A parità di entrata, sottolinea il primo cittadino di Treviso, le spese sono sempre maggiori e questo provoca una certa sofferenza tra noi sindaci veneti che abbiamo sempre garantito bilanci in ordine. La questione sedentrionale, aggiunge, deve insomma essere rispolverata. Se in Veneto i sindaci veneti hanno da sempre avuto i conti in ordine, oggi vanno sostenuti, non bisogna chiedere ulteriori sacrifici. E per i sindaci si prospettano tempi di sacrifici per far quadrare i bilanci. A Treviso, ad esempio, tra il 2020 e il 2021 si sono spesi 900 mila euro in più per l'energia elettrica, mezzo milione per il gas, sono aumentate anche le spese per il sociale, come per le deleghe URSS o le assistenze domiciliari. Abbiamo avuto oltre 200 mila euro di spese per il contratto del verde, cioè vuol dire avere sempre gli stessi servizi ma doverli pagare di più. Il comune di Treviso, in vista del bilancio di previsione da licenziare, entro fine anno sta analizzando voce per voce per capire dove intervenire, partendo da una certezza, la spesa per il sociale non si tocca. Andremo a rivedere tutto quello che è il tema della contribuzione su attività produttive, sulla cultura e cercheremo di razionalizzare i servizi. Qualche opera pubblica dovrà essere rivista, ridimensionata oppure rinviata. L'aumento delle imposte comunali sarà l'extrema razio? Capite che è l'ultima cosa che vorremmo fare, però se ci chiedono di tenere in equilibrio i conti, come in Veneto abbiamo sempre fatto, o aumentiamo le tasse o riduciamo i bilanci. Ho ben presente le difficoltà e l'impegno che caratterizzano le vostre giornate, i bisogni concreti e le esigenze che siete chiamati a fronteggiare, ma non posso ignorare il momento particolarmente delicato che stiamo attraversando. Ha detto all'Assemblea Ancio il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, la manovra di bilancio ha giunto per il prossimo anno, affronta anche alcune questioni che riguardano più da vicino le attività dei comuni. Gli interventi previsti avranno la caratteristica della selettività e riguarderanno problematiche urgenti e specifiche. E dopo l'annuncio dei tagli al bilancio, non è mancato il commento delle opposizioni in Consiglio Comunale a Treviso con il capogruppo del PD Stefano Pelloni che manda un chiaro messaggio al Sindaco Conte e Assessore Barbisan. Al Sindaco Conte e all'Assessore Barbisan voglio dire solo che la pacchia è finita. Drastico il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Treviso per Stefano Pelloni. L'amministrazione Conte ha potuto fare quel che ha fatto solo grazie alle scelte giuste del suo predecessore che ha lasciato un piccolo tesoretto, oggi però esaurito. E ora, commenta sarcastico Pelloni, si impongono tagli in settori che invece dovrebbero essere finanziati. Strano che questa amministrazione si candidi come capitale della cultura, capitale italiana della cultura e l'assessore al bilancio dica con la grandissima serenità che procederà a dei tagli sulla cultura. Insomma, grandi contraddizioni in giunta Conte per il Partito Democratico. Partito che oltre a criticare già in commissione bilancio, riunita oggi pomeriggio, che il 31 ottobre nel corso del prossimo Consiglio Comunale avanzerà anche delle proposte concrete. Ad esempio la Corte dei Conti, anche quest'anno, ha ricordato come l'amministrazione di Treviso sia molto indietro nel recupero dell'evasione fiscale. Ad esempio su questo si tratterebbe di recuperare quelle risorse necessarie oggi per garantire i fondi per la cultura e per il sociale necessari. Perché secondo il capogruppo del PD, l'attuale giunta non riesce a scostarsi dall'ovvio senza cercare realmente altre risorse e non solo nella lotta contro l'evasione. Il giudizio comunque aspetta i cittadini, conclude Pelloni, sottolineando come dai banchi dell'opposizione verificheranno se realmente debbano e in quale misura esserci gli annunciati tagli in bilancio. Voglio vedere cosa risponderanno alle famiglie trevigiane che oggi sono sempre più in difficoltà. Siamo alla sanità. La pediatria all'ospedale di Castelfranco non chiuderà le rassicurazioni dopo le voci di una possibile chiusura del reparto del San Giacomo arrivano direttamente dal direttore dell'Ulse 2 Benazzi. Tanto rumore per niente perché stiamo già trovando delle soluzioni. Ci pensa il direttore generale dell'Ulse 2 a spegnere sul nascere le voci che in questi ultimi giorni stanno circolando a Castelfranco sulla possibile chiusura della pediatria dell'ospedale San Giacomo. I cittadini e lo stesso sindaco Stefano Marcone non avevano nascosto le loro preoccupazioni di fronte a questa eventualità. Ma Benazzi chiarisce subito non si è mai parlato di una chiusura del reparto. Non si chiudeva la pediatria. Si spostavano solo dei posti letto dei bambini che bastate guardate i tassi di ricovero dei bambini a Castelfranco e il risorio perché vanno già oggi i bambini a Montebelluna. Comunque siccome non vogliamo far passare questo messaggio di chiusura troveremo le soluzioni senza problemi. Nessuna chiusura, nessuno spostamento di posti letto. Nonostante gli ultimi dati riferiti a 2023 parlino per la pediatria di Castelfranco di un'occupazione del 28,52% a fronte di un 50% richiesto dalle linee guida per mantenere attivo un reparto. Per un tasso di permanenza dei bambini che è veramente irrisorio perché secondo il PNE addirittura si dovrebbe chiudere con un tasso di occupazione così. Castelfranco insomma non perderà la pediatria dove verranno impiegati i sanitari attualmente in servizio in attesa di nuove assunzioni. Manterremo il servizio anche di pediatria a Castelfranco. Già c'è il nido e non l'avremo toccato. La patologia neonatale non l'avremo toccata e la chirurgia ovviamente ginecologica non viene toccata. Continuiamo con la cronaca. La vista dei carabinieri hanno cambiato strada ma sono stati inseguiti dagli uomini dell'arma di Carmignano di Brenta fino a Fontaniva in auto. Avevano un grosso quantitativo di droga bloccato anche un marocchino residente a Resana. Giravano in macchina con tre panetti di Ascis da un chilo l'uno arrestati dai carabinieri di Carmignano di Brenta due cittadini marocchini di 40 e 20 anni il più anziano dei due in Italia dal 2001 è residente a Resana in provincia di Treviso mentre il secondo risulta senza fissa dimora. I due verso le 9 e mezza di ieri sera alla guida di una BMW stavano percorrendo le strade del comune dell'Alta Padovana quando hanno notato un posto di blocco dei carabinieri. Per evitare i controlli i due hanno cambiato strada cosa che non è spuggite militari che hanno inseguito e fermato il mezzo fino a Fontaniva. Visto l'atteggiamento dei due i carabinieri hanno perquisito la vettura trovando nascosti sotto il sedile del conducente i tre chili di droga. I due sono stati quindi arrestati per spaccio di stupefacenti e portati alla casa circondariale di Padova. Furto in un centro commerciale a Cairano San Marco 6 persone, 5 donne dietro a comprese fra 19 e 45 anni e un ventenne lo scorso 12 settembre sono entrati nel negozio dividendosi compiti e ruoli alcuni distraevano i dipendenti gli altri asportavano la merce ed interesse dagli scaffali la banda è riuscita a impossessarsi di 4 televisori di varie marche per un valore complessivo di circa 1200 euro ed allontanarsi dalla struttura le indagini dei carabinieri di Montebelluna hanno portato all'identificazione dei responsabili tutti già noti alle forze dell'ordine che sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria per furto in concorso denunciato per furto ha gravato anche un 43enne nordafricano che i carabinieri della compagnia di Conegliano ritengono essere responsabili di due furti commessi il 6 ottobre scorso a danno di una bar di Codoniere dai quali aveva sottratto le mance lasciate da alcuni clienti ed ancora cronaca aveva rubato sculture in bronzo e in vetro di Murano arrestato 68enne aveva fatto irruzione in un'abitazione a Cison di Valmarino asportando varie sculture in bronzo e in vetro di Murano un bottino che gli aveva fruttato ben 15.000 euro un colpo ha messo a segno nel maggio del 2016 poi le indagini dei carabinieri di Vittorio Veneto che avevano identificato il ladro un 68enne del Vittoriese è scattato poi l'iter giudiziario fra udienze e appelli fino alla condanna definitiva l'uomo deve scontare un anno di reclusione nelle ore scorse i militari dell'arma hanno bussato alla porta del ladro e per lui è scattato l'arresto per il 68enne si sono aperte le porte del carcere ed ora la politica arresto nella Lega ma a determinate condizioni e non a tutti i costi ieri sera nell'intervista esclusiva con il direttore Luigi Bacialli a Focus Roberto Marcato ha parlato dopo mesi del suo futuro e anche di quello del governatore Luca Zaia io resto leghista per sempre io morirò sono nato leghista e morirò leghista non posso essere nient'altro ma non resto in una Lega a qualsiasi costo io rimarrò nel carroccio nella misura in cui il carroccio continua ad essere la mia casa non apre la porta di quella casa per andare altrove ma nemmeno la chiude a chiave perché potrebbe diventare insopportabile viverci soprattutto per lui che ci si trova dal 1992 la Lega di Bossi dice Roberto Marcato a Focus la Lega della riscossa del Nord della lotta contro l'arrogante strapotere politico a sfavore dei più deboli se la Lega continua a darmi la possibilità di poter lavorare per questi obiettivi con questi valori bene altrimenti io dovrò fare le mie scelte per mesi è stato il protagonista dello strappo più forte nella Lega Veneta in tempesta con l'acme del ritiro forzato della candidatura a segretario regionale mesi nei quali il mercato è stato corteggiato da sirene forziste e venetiste e sostenuto anche fuori dalla galassia del centro-destra ringrazio davvero tutte le persone che ho incontrato in questi mesi e sono state davvero tante anche da partiti che non avrei mai pensato francamente però che la riflessione continui lo si è visto dall'assenza pesante alla partenza della scuola di formazione politica del Carroccio a Padova fumo negli occhi per l'assessore regionale io non vedo le piazze piene di leghisti non vedo i gazebi che esplodono dalla gente che c'è sotto non vedo la fila per farle tessere non le vedo queste cose non sento questo afflato e allora come si fa a ritornare a questo? dando un'identità forte al partito e sarebbe opportuno che come succede nella democrazia la Lega si ritrovasse facesse un vero congresso federale dove si discuta dei temi e si dà una linea politica dopo di che uno se si riconosce nella linea politica bene altrimenti è del tutto evidente che deve fare altre strade una linea politica attuale che ha marcato non piace io per anni assieme a Matteo Salvini abbiamo combattuto l'ipotesi del ponte di Messina ma l'abbiamo spiegato ovunque oggi invece diventa il provvedimento bandiera per quanto riguarda la Lega di questa finanziaria noi faremo una manifestazione con la Le Pen che rappresenta quanto di più nazionalista ci possa essere in Europa e allora anche qui siamo un partito nazionalista o siamo un partito federalista c'è l'autonomia inchiodata obbligo morale di uscire dal governo se non arriva nel 2024 dice apertamente l'assessore c'è una sudditanza inaccettabile nei confronti della Lega Lombarda e un rapporto complicato con fratelli d'Italia molti problemi da risolvere prima che arrivi dopo europee ed amministrative l'appuntamento cruciale delle regionali peraltro senza zaia candidato all'europea o a sindaco di Venezia marcato crede poco a tutti e due e lancia una sua personale inaspettata terza via per il governatore lui potrebbe essere il primo presidente della Repubblica a Veneto per la storia che ha per per lo standing che ha non solo nazionale ma anche internazionale per le capacità che ha quella è la via che io immagino per il presidente saranno 56 comuni della marca ad andare al voto a settembre 2024 giochi ancora aperti sulle candidature soprattutto a Vittorio Veneto una lega spaccata da una parte e opposizioni che si stanno riorganizzando dall'altra per trovare il candidato in grado di strappare al carroccio la poltrona di sindaco ospite a ring l'europarlamentare della lega Gian Antonio da re già sindaco di Vittorio Veneto e padrino politico dell'attuale primo cittadino Antonio Miatto fa il punto sulle strategie del centrodestra e conferma il nome del vice sindaco Gianluca Posocco come possibile successore dello stesso Miatto categorico nel non volersi ricandidare per il secondo mandato ma il nome che i vertici del partito potrebbero imporre è un altro quello dell'avvocato Stefano Trubian già consigliere comunale a Vittorio Veneto e vicino al segretario regionale Alberto Stefani quando si è candidato Antonio Miatto e ha detto subito io farò solo un mandato perché lo abbiamo praticamente costretto e allora abbiamo subito puntato a una figura che potesse essere la sua continuità e c'è Gianluca Posocco che è un ragazzo che ha 42 anni è il vice sindaco è stato 5 anni già in consiglio comunale adesso ha fatto 5 anni in vice sindaco quindi è la figura di Posocco è la figura di continuità lei non ci ripensa no ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità siamo tornati nuovamente in studio domani alle 15 a San Polo di Piave i funerali di Antonio Facchini è scomparso all'età di 94 anni il ricordo del sindaco per uno dei volti dei vini della sinistra Piave Trevigiana a poco più di un mese dall'addio a Giorgio Cecchietto San Polo di Piave si prepara a salutare per l'ultima volta un altro volto storico della viticoltura trevigiana domani dalle 15 nella chiesa parrucchiale si traranno i funerali di Antonio Facchin scomparso martedì sera a 96 anni trascorsi nell'impegno continuo tra i filari e botti dell'azienda nata sulle grave del Piave nel 1870 e come Cecchietto anche Facchin ha sempre sostenuto il raboso ma anche le bellussere simboli di una realizzazione in realtà contadina genuina fatta di fatica ma anche di solidarietà e non a caso Antonio ha sempre appoggiato le iniziative dei tre figli a cui aveva nel tempo ceduto le redini dell'azienda e in particolare il sostegno alla Lega Italiana per la lotta ai tumori con la vendemia solidale un'azienda importante nel nostro territorio che tanto ha dato e continua e sta dando appunto sia dal punto di vista di identità territoriale con una forte connotazione per il raboso Piave che è una delle nostre culture principali ma anche e soprattutto per il sociale un'azienda che in questi anni sta dando tanto anche per il sociale non ultima l'ultima edizione della vendemmia sociale Per questo il suo ricordo non sarà cancellato dal tempo hanno sottolineato i figli Antonio Giuseppe e Giusi ma si tramanderà tra i filari e le cantine che ha ereditato e che ha saputo far crescere per poi consegnarcele in un passaggio di testimoni tra generazioni che sono sempre state l'essenza delle nostre famiglie contadine lungo le grave della sinistra Piave Siamo allo sport domenica alle 15 il Benetton debutta in casa dopo la strepitosa vittoria in rimonta contro il Galles a Monigo si attende il tutto esaurito e potrebbe esserci già il debutto dell'ex All Black Fekitoa La vittoria con Cardiff per di più in trasferta ha indubbiamente dato una grande carica il Benetton che domenica alle 15 debuterà al Monigo contro i campioni gli irlandesi del Manchester non avrà timori irreverenziali la seconda giornata dello UFC il campionato celtico che vede impegnate le due franchigie italiane Benetton e Zebre propone una squadra in salute anche se priva ancora di molti nazionali a riposo dopo la Coppa del Mondo e un'occasione unica per i tifosi dopo il successo in Galles Sapevamo che una vittoria non era mai stata fatta da treviso quindi è stata sicuramente una boccata ad aria e adesso andando avanti ci aiuterà sicuramente nel morale Manchester è una squadra leggendaria ha una tradizione incredibile all'Imerick dove gioca è quasi impossibile trovare biglietti ma anche il Benetton punta tutto esaurito per l'intera stagione una media di 5.000 spettatori che darebbero una grande spinta alla società e poi domenica potrebbe esserci il debutto di Malakai Fechitoa il centro ex campione del mondo con la maglia degli All Blacks che sembra già sia pronto a scendere in campo l'importanza nella partita di domenica sarà sulle fasi statiche sappiamo che il Manchester è molto forte lì quindi sicuramente bisogna mettere il focus lì così dare palle pulite ai tre quarti e impostare la partita ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia licenziamenti inevitabili per gli ormai ex dipendenti ACC sono soprattutto donne e per molte di loro un ricollocamento si prospetta davvero difficile parti sociali in allarme per il futuro dei lavoratori ACC il commissario straordinario di Italia ACC Juan Bao Maurizio Castro ha infatti avviato come previsto dalla normativa vigente la procedura di licenziamento collettivo per le 105 persone ancora dipendenti di ACC il prossimo 31 dicembre infatti le condizioni che hanno portato alla procedura di licenziamento diventeranno inevitabili è chiaro che la situazione è ancora preoccupante dal punto di vista occupazionale sono 104 oggi i lavoratori che ancora non hanno trovato una collocazione 36 di questi dovrebbero essere assunti da SEST secondo gli impegni sottoscritti in Regione Veneto e quindi attendiamo da SEST la conferma delle assunzioni che dovrebbero avvenire entro la fine dell'anno per i restanti 69-70 lavoratori è chiaro che serve un tavolo istituzionale in Regione Veneto le parti in campo condividono la necessità di verificare la possibilità di ricorrere ad eventuali misure per fronteggiare le conseguenze della dichiarazione di esuberi e limitarne l'impatto sociale anche attraverso la convocazione a breve di un tavolo istituzionale presso la Regione Veneto per una conclusiva verifica in merito allo stato di avanzamento degli accordi sottoscritti con particolare riguardo agli impegni occupazionali in capo al gruppo LUVE-SEST quelli che oggi sono fuori sono per gran parte donne con un'età superiore ai 50 anni e quindi difficilmente ricollocabili anche se hanno una competenza importante perché hanno lavorato per anni in un'azienda metalmeccanica che aveva una sua capacità una sua organizzazione una sua efficienza importante forse uno delle migliori del territorio provinciale in consiglio comunale venerdì è debutato un nuovo gruppo consigliare si chiama più forti insieme ed è costituito da due consiglieri di maggioranza usciti dal gruppo della Liga e per questo espulsi dal partito Consigliere Lagrua voi siete o no un gruppo che fa parte della maggioranza? Noi ci sentiamo parte della maggioranza e lavoriamo in questo senso Se le parole hanno un peso Francesco Lagrua che con il collega Roberto Ferro costituiscono il gruppo nuovo consigliare più forti insieme le sa soppesare abilmente ma con prudenza Lagrua e Ferro hanno deciso di lasciare il gruppo del carroccio dopo l'arrivo del tutor inviato dal segretario regionale Stefani per riportare la barra a dritta in consiglio comunale non si immaginavano però di venire espulsi dal partito e questo ha delineato uno scenario assai diverso per la maggioranza che a Palazzo Rosso sostiene l'amministrazione De Pellegrin abbiamo anche votato per adesso sempre sì quindi noi ci sentiamo della maggioranza la questione che è sorta in conferenza di capigruppo laddove io ho detto che il nostro gruppo non era in maggioranza in realtà nasce da un equivoco motivato dal fatto che come risulta noi non siamo stati invitati alla riunione in maggioranza Lagrua e Ferro hanno dichiarato di restare fedeli alla lega del presidente Zaia e dunque la loro iniziativa politica nasce nel perimetro della coalizione di centrodestra che si è formata nella primavera del 2022 la notizia del cartellino rosso ai due consiglieri è arrivato come un fulmine a ciel sereno formalmente noi non abbiamo ricevuto nulla se non un messaggio ricevuto per via traverse quindi nemmeno direttamente in realtà aspettiamo i giudizi in maniera molto serena noi sappiamo già qual è la nostra sorte e non ci preoccupa in alcun modo noi lavoriamo per il Consiglio Comunale di Belluno e quello che succederà a livello di Lega sarà un altro argomento noi siamo consiglieri comunali molto vicini alla regione a Zaia e alla giunta Zaia presentato a Belluno il bilancio di valutazione del primo anno del governo Meloni da parte dei membri di azione per il segretario provinciale Andrea De Bortoli il giudizio è di scarsa attenzione verso la montagna mala gestio e poca attenzione al bellunese a lamentarlo la direzione provinciale di azione a un anno dall'insediamento del governo Meloni tra i punti del bilancio sull'operato di centrodestra e del quale azione riporta un giudizio deludente spiccano la gestione della crisi della sanità pubblica per la quale si sfilerà nel capoluogo sabato 28 ottobre ma anche lo smacco olimpico per il quale non si esita già a parlare di mezzo fallimento in primis la sanità ritenendo che sia importante continuare a investire su questa e operare una politica di razionalizzazione anche della spesa saremo presenti all'iniziativa del 28 ottobre a Belluno perché crediamo che bisogna continuare a investire nella sanità pubblica sul tema invece delle olimpiadi registriamo diciamo così il fallimento del progetto di centrodestra e chiediamo che venga presto ristabilite delle gare su cortina penso ad esempio allo sci alpinismo e sul territorio provinciale il partito che tra un mese andrà a congresso per il rinnovo delle rappresentanze prosegue il suo percorso di lenta ma costante crescita con l'entrata di una decina di nuovi iscritti e il consolidamento del cosiddetto zoccolo duro per il segretario uscente Andrea De Bortoli è una grande soddisfazione anche in vista della prima celebrazione del congresso di Belluno nel 2024 rispetto a due anni fa quando divenne segretario la nostra comunità cresce oggi possiamo contare su almeno una cinquantina di iscritti e il prossimo 11 novembre andremo a congresso a Belluno per rinnovare le cariche la cosa importante poi che segna la forza e la crescita di questo movimento è che organizzeremo per la prima volta anche il congresso comunale di Belluno che si celebrerà nei primi mesi del 2024 vanno definendosi gli ultimi dettagli della manifestazione Belluno città del legno sabato il via alla manifestazione bosche e foreste zattere scultori arte architettura ambiente storia tradizione tutti elementi che il consorzio Belluno centro storico definisce a portata di mano e che messi in rete potranno fare di Belluno la città del legno sarà intenso il programma previsto da sabato prossimo fino al 19 novembre e di cui faranno parte la ex tempore di scultura una rassegna fotografica dal titolo Belluno e i suoi scultori una rassegna di film un convegno sul restauro nell'arte sacra linea un festival che per tre settimane porterà vivacità al centro storico attraverso una serie di iniziative che prendono il là dalla ex tempore di scultura ma che sfioreranno anzi invaderanno altri temi importanti dal punto di vista culturale scientifico congressuale estetico in questi giorni intanto si va completando la rosa dei 18 scultori che dal 31 ottobre al 5 novembre daranno vita alla ex tempore giunta ormai alla sua 37esima edizione che il tema sarà La natura ci dice che un appuntamento che quest'anno avrà anche un appendice serale sabato 4 novembre infatti gli scultori saranno al lavoro fino alle 22.30 e i negozi del centro rimarranno aperti offrendo ai visitatori alcune originali sorprese L'ex tempore ha 37 anni quindi è una rassegna storicizzata puntiamo ovviamente a renderla sempre brillante ma il lavoro importante è sui contenuti paralleli quindi su tutto quello che è il festival del quale l'ex tempore rimarrà sempre un punto di forza ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo grazie davvero per averci seguito buona serata Busti, tutori e protesi di arto personalizzati ortopedia e sanitaria L'Olato Atreviso e Montebelluna L'Olato soluzioni per star bene ben trovati ben trovati la pressione atmosferica tende ad aumentare sul nostro territorio dove il tempo è in via di miglioramento vediamo insieme il dettaglio sul Veneto la grafica di venerdì 27 ottobre evidenzia una situazione buona fino al primo mattino tuttavia non è esclusa una leggera variabilità con residui piovaschi sui rilievi in seguito crescenti rasserenamenti temperature con contenute variazioni di carattere locale minime sui 7-12 gradi massime tra 18-22 all'incirca ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia inizialmente cielo nuvoloso e piogge moderate e sparse poi migliora sarà infatti più asciutto e a tratti soleggiato possibili mareggiate sulla costa temperature minime tra 11-13 gradi massime sui 20-25 gradi infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove alla mattina sarà possibile qualche precipitazione residua di seguito più sole temperature minime intorno ai 10 gradi massime sui 21-22 all'incirca dal meteo è tutto vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura Grazie a tutti.